Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Un flusso più freddo-balcanico all'interno del Mediterraneo, che al momento regala cieli sereni, però porterà qualche fenomeno in più nel corso della settimana. Almeno fino a venerdì persisterà quest'area più fredda orientale, dopodiché nel weekend è il probabile ritorno delle piogge al nord per il ripristino delle correnti atlantiche per qualche giorno. Per quanto riguarda questo martedì in Abruzzo, una giornata ricca di nubi, nubi però in gran parte sterili, qualche piovasco, specie nella seconda parte della giornata, negli aree interne, fenomeni di poco conto. Altrove sempre tante nubi, pochi sprazzi di sole, non ci aspettiamo particolari nuote instabili, temperature che si mantengono basse, inferiori alle medie del periodo, massime tra i 21 e 24 gradi, minime tra i 9 e i 17 gradi. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.